L'attesa per il ritorno di SailGP a Taranto è finita, è iniziata la vendita dei biglietti per il Rockwool Italy Sail Grand Prix, che si trae la 23-24 settembre, quarto evento della stagione 4 di SailGP. Sono disponibili diversi tipi di biglietti per assistere all'emozionante regata che vede 10 squadre nazionali sfidarsi a colpi di catamarani volanti F50. I biglietti sono acquistabili al link sailgp.com.it. Dopo il successo dell'evento SailGP del 2021, che ha visto circa 28.000 spettatori affollare il capoluogo ionico con un alto impatto economico nonostante le limitazioni per la pandemia, SailGP torna con alcune novità per dare la possibilità agli appassionati di assistere da vicino alla regata. Il SailGP Stadium sarà situato presso la rotonda del lungomare. Proprio in riva al mare offrirà posti a sedere in tribuna con grandi schermi, commenti dal vivo, intrattenimento musicale e un negozio di merchandising per i fan. Ogni giorno saranno disponibili oltre mille accessi waterfront a lungomare, con una vista perfetta sulla percorso di regata. La novità del 2023 sarà un numero limitato di biglietti waterfront premium per coloro che desiderano vedere il Gran Premio in un ambiente esclusivo in terrazza e includeranno un'ospitalità completa. Per chi vuole avvicinarsi ancora di più all'azione, c'è il biglietto on water premium. I tifosi saliranno a bordo delle motonavi Adria e Clodia di Chima a mobilità da un'area riservata e si dirigeranno verso il campo di regata.